Delfino che ti sei arenato su queste nostre spiagge, non ti preoccupare, adesso la dottoressa Ippi qui presente ti aiuterà e ti guarirà. Mi raccomando, stai qua, stai tranquillo, intanto noi ci guardiamo le previsioni del tempo. Previsioni per sabato 3 giugno al nord e in Lombardia, al mattino bel tempo e sole prevalente su quasi tutti i settori con qualche addensamento in più atteso soltanto sui rilievi alpini. Al pomeriggio nubi cumuliformi in aumento sulle Alpi orientali, in Val d'Aosta con possibilità di locali rovesci o brevi temporali, persistono condizioni di stabilità altrove. Sul resto d'Italia al mattino cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi in tutte le regioni. Al pomeriggio nubi in aumento sui rilievi di Lazio e Abruzzo dove non si escludono acquazzoni o locali, attività temporalesche, ampie schiarite sulle coste, temperature minime massime in rialzo. Qua nella mia cascettina c'avevo tutti i cerottini, Nami, guarda, adesso gli attacchiamo uno lì, così tu guarirai, così tu potrai stare sereno e ricordarti che su Crone TV su tutto l'oceano splende sempre il sole.